Inizia sabato 23 gennaio il campionato nazionale di serie B2 femminile di volley. Prima gara casalinga dell'ASD Battipagliese Volley con la prima donna volley Bari. Una bella spera ASD Battipagliese Volley, sabato prossimo inizia il campionato. Con quale umore, con quale spirito, considerato che c'è stato tutto questo problema di sospensione per il Covid? Buonasera, siamo pronte e cariche per questo inizio campionato sperando che proseguano il migliore dei modi per noi e per gli altri. L'unica pecca purtroppo è il fatto che saremo a porte chiuse ma questo non sarà perfetto il limite, l'unica cosa, l'importante è andare avanti. Allora innanzitutto finalmente perché dopo un anno ferme, quasi un anno era il minimo, noi da più o meno ottobre che ci alleniamo ci abbiamo messo un sacco di impegno e la vedo bene. Speriamo di applicare la stessa grinta che applichiamo negli allenamenti in partita così vedremo un buon risultato.